Non accenna a finire la querel giudiziaria nella quale sono coinvolti Marò Pugliesi, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre detenuti in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori indiani scambiati per pirati. Il commissario della polizia Ajit Kumar presenterà entro questa settimana il verbale delle accuse nei confronti dei militari. Kumar è il capo della squadra speciale investigativa che conduce le indagini sull'uccisione dei due pescatori indiani avvenuta lo scorso 15 febbraio. Sulla conclusione delle indagini il commissario Kumar non ha fornito particolari. Si sa solo che il verbale contenente i capi di imputazione dovrà essere presentato prima del termine di legge dei tre mesi di carcerazione preventiva che scade sabato. In attesa delle decisioni che prenderà il commissario di Collam le autorità indiane in un clima di grande silenzio stanno valutando la possibilità di spostare in Marò dalla prigione di Trivandrum ad un luogo più appropriato. Si sta pensando di trasferirli in una guest house ma per ora le bocche restano cucite. Si saprà qualcosa in più in serata quando si incontreranno le autorità di polizia e carcerare indiane e una delegazione italiana a Trivandrum. Intanto il sottosegretario agli esteri Staffan de Mistura è giunto oggi a New Delhi per una nuova missione.